Ciao a tutti, ciao a tutte, benvenuti sul podcast di Italiano Bello. Come vedete, se state guardando su YouTube, anche oggi non sono sola, ma ci sono qui con me Valentino e Lorenzo, che ho conosciuto su Instagram. Infatti hanno una pagina Instagram che si chiama Loud Italian Learning, dopo metterò il nome nella descrizione dell'episodio. E questa pagina mi ha subito colpito perché loro insegnano l'italiano, ma con un'ambientazione molto particolare. Dopo magari ci diranno loro di più. Quindi, ciao Lorenzo e Valentino, volete presentarvi, dire chi siete, cosa fate, come siete arrivati qui? Ciao Irene, allora, magari ci possiamo presentare prima come singoli e poi come duo. Io sono Valentino, di formazione sono un sinologo, quindi ho studiato cinese e in parallelo ho sempre insegnato la lingua italiana. Mi è sempre piaciuto. Da qui anche ci è venuta l'idea per questo progetto. E ora passo la palla a Lorenzo. Sì, ciao a tutti, io sono Lorenzo. Di formazione in realtà io sono abbastanza distante perché sono più, ho studiato più informatica. E sono comunque sempre stato molto interessato a quelle che sono le dinamiche delle lingue, dall'italiano, inglese e anche altre lingue giapponese e quant'altro. Sì, abbiamo deciso di tirare fuori questo progettino. Da molte soddisfazioni, è molto divertente. Si vede che vi divertite, insomma. E quando avete cominciato? Perché penso che sia relativamente nuovo il vostro progetto. Più o meno da quando? Abbiamo cominciato intorno a sei mesi fa. Più o meno sei mesi fa abbiamo cominciato. Diciamo abbiamo cominciato su Instagram, però il nostro cardine dovrebbe essere YouTube, anche se Instagram ci piace molto come canale di comunicazione. Sì, scusa. No, no, il progetto originariamente doveva essere principalmente YouTube, appunto, ma un po' perché è più difficile avviare comunque un discorso video, anche per imparare appunto a montare, a utilizzare il medium video. Abbiamo comunque iniziato con Instagram e appunto poi adesso stiamo andando avanti, insomma. E soprattutto, questo lo dico anche perché a volte non è stato possibile riprendere, perché in piena pandemia eravamo bloccati, ognuno a casa sua e diciamo, vabbè, aspettiamo. Esatto. Sì, perché voi avete uno studio nel quale andate tutti e due di persona, quindi giustamente, visto che abitate nella stessa città, sarebbe bello vedersi. Sì, capisco, avete iniziato in un periodo difficile, ma immagino che forse l'idea vi sia avvenuta anche proprio per la pandemia, non lo so. Se avete deciso di mettervi online per quello o se è stata una coincidenza. Esattamente. Diciamo abbiamo preso un po' la palla al balzo e è stato proprio dopo il primo lockdown che abbiamo tirato fuori quest'idea. Un po' per, visto che tutto si è spostato più verso l'online e comunque appunto è un canale che è in sviluppo e in questo momento soprattutto appunto. Quindi diciamo il fornire un supporto online, potersi spostare e guadagnare visibilità su una piattaforma online sicuramente aiuta molto e appunto l'idea ci è venuta così mentre stavamo coltivando l'orto. Quindi molto spontanea è stata. Che bello. E invece vi volevo chiedere come vi è venuta l'idea di dare questo taglio, cioè di usare questo tono ironico, non so come definirlo. Per chi non conosce la loro pagina Instagram la descrivo un po', poi anche voi se volete potete descriverla. Loro insegnano l'italiano ma con immagini e proprio un'ambientazione, un setting, come dire, pop preso da giochi, videogiochi, fumetti. Peraltro io non so niente di queste cose quindi non so neanche come definirle, però insomma usate un tono molto amichevole e molto ironico, divertente ed è una cosa molto originale, diverso dal solito insegnante d'italiano che dice bene oggi studiamo il congiuntivo. Come vi è venuta quest'idea? Immagino che parta da una vostra passione. Esatto, parte proprio in realtà dal nostro DNA. Noi siamo nati a cavallo cresciuti, ci siamo proprio bevuti tutte le prime console, tutti i film anni 90 più iconici. Possono essere i primi film della Marvel, Matrix, Ritorno al futuro, Jurassic Park e questa cultura, diciamo, rappresenta un pochino anche il nostro codice di comunicazione. Citazioni, riferimenti fanno parte e vengono da questo mondo. E noi abbiamo deciso, poiché molte volte l'insegnamento dell'italiano come taglio è molto grammaticale, potrei dire libresco quasi, appunto, come hai detto tu, oggi studiamo il congiuntivo. E io ho detto, oh mio Dio, no? Abbiamo pensato di, poiché di questo ce n'è già tanto, di questa tipologia di offerta, noi abbiamo deciso di cambiare. Quindi cosa sappiamo? In base sappiamo niente, sappiamo un sacco di citazioni di film, abbiamo letto tanti fumetti, visto tanti anime, giocato troppi videogiochi. Abbiamo deciso di condensare questa conoscenza e di spostarla, usarla come mezzo per insegnare l'italiano. Ovviamente è efficace con persone più o meno della nostra età, quindi che si aggirano tra i 25 e i 35 anni orientativamente. Certo. Non so se Lorenzo voleva aggiungere anche qualcosa. Effettivamente, più o meno è detto tutto, diciamo, siamo due spiriti nerd, per così dire. Quindi è il nostro ambiente. E di base, appunto, un po' l'approccio grammaticale tradizionale in qualche modo può risultare pesante, soprattutto per chi sta apprendendo una lingua magari nel tempo libero o magari senza dei vincoli molto stretti. Sì, assolutamente. Quindi ironico, un po' scherzoso. No, sì sì. Sì sì, è proprio piacevole seguire la vostra pagina. Grazie. E lo dico io che, appunto, probabilmente non sono il vostro target ideale perché non conosco molto questo mondo dei videogiochi, però comunque capisco che il vostro modo di comunicare è molto coinvolgente. E volevo chiedervi, per curiosità, avete notato se siete seguiti più da uomini che da donne, più da maschi? Più da donne, in realtà. Esatto. Abbiamo 65%? Non sappiamo perché. Perché io noto, è una cosa molto strana, come sapete io insegno sia italiano che latino e nell'ambito del latino mi seguono quasi tutti uomini, tipo un 80% uomini e 20% donne. Nell'italiano è il contrario, 80% donne e 20% uomini. E è qualcosa su cui veramente non capisco la causa. Hai un'ipotesi su questo perché è molto interessante. È interessante. Devo dire che non me lo spiego tanto. Cioè, capisco perché mi seguono più donne, perché io sono una donna e posso capire che più donne si sentano attratte dal mio modo di comunicare. Non mi spiego invece per il latino. L'unica cosa che posso dire è che secondo me, in generale, ci sono più uomini che studiano il latino. Non so se questo sia dovuto al fatto che, soprattutto in alcuni paesi, il latino è uno studio ancora molto elitario al quale quindi magari riescono ad accedere di più gli uomini, oppure comunque studiare il latino, soprattutto parlandolo come lo insegno io, è una cosa elitaria già di per sé e magari una donna, non lo so, che deve seguire la famiglia così, non ha tempo a dedicarci, sì, mentre studiare l'italiano è una cosa più normale, diciamo, e quindi, però non lo so, è solo un'ipotesi. Molto interessante. Guarda, io personalmente, se dovessi studiare latino ad oggi, visto che ho già dato fortunatamente, molto probabilmente seguirei una pagina come la tua, se non proprio la tua, ovviamente, poi dipende sempre dal contenuto che poi uno riesce a raggiungere. Però una pagina, un canale come il tuo, sicuramente li troverei molto utili. E al tempo, al periodo liceo, mi avrebbe fatto molto comodo qualcosa del genere. Quindi io sarei stato sicuramente uno dei tuoi follower, diciamo. Benissimo. Allora, io direi che adesso possiamo entrare nel vivo dell'episodio, visto che comunque i miei episodi non sono molto lunghi, è arrivato il momento di entrare nell'argomento che abbiamo scelto per oggi, che è il linguaggio del web, cioè come cambia l'italiano quando passa dal mondo reale o dai libri alla comunicazione online. Quindi intendiamo social media, chat varie, Whatsapp, insomma, sappiamo tutti di cosa si sta parlando. E vorrei fare con voi una conversazione, visto che tu, Valentino, sei anche esperto di lingua in generale, di comunicazione, su quali sono, secondo voi, gli aspetti principali. Potete partire dalla vostra esperienza, dalle vostre osservazioni, quello che volete. Allora, Lorenzo, se vuoi comincio io, poi magari ci alterniamo, come vuoi. Prego, prego, vai, vai. Vabbè, allora, quello che io ho notato nella comunicazione via web, soprattutto via app di messaggistica istantanea, come può essere Messenger, come può essere WhatsApp, è che solo apparentemente, in realtà, è una forma di comunicazione scritta. Cioè, noi ovviamente scriviamo. Però, in realtà, ci sono alcuni tratti che l'avvicinano molto di più all'orale. Il fatto di magari segmentare, di spezzare il messaggio per, diciamo, caricarlo di un... caricarlo di un altro peso comunicativo. Ad esempio, si può dare anche drammaticità mettendo tanti brevi messaggi uno dopo l'altro. O anche, mi viene in mente, semplicemente, la... come è cambiata la funzione del punto, del punto fermo nella... su WhatsApp. Mettere un punto fermo, se uno dice ciao, punto, io chiedo, ma cosa ho fatto di male? Mentre invece, se fosse italiano scritto normale, noi sappiamo che alla fine di una frase è obbligatorio mettere punto. Su WhatsApp, no, anzi, mettere punto significa che tu stai dicendo quella cosa ed è così e basta. Non può essere cambiata, in un certo senso. Come anche il... l'uso delle... delle maiuscole. Se uno scrive tutto in maiuscolo viene percepito come se qualcuno ti stia, appunto, non sgridando, ma se sta alzando la voce, sta alzando i toni, in un certo senso. E tutte queste, diciamo, caratteristiche lo avvicinano molto di più all'orale che non allo scritto. È una forma ibrida, come anche il... Abbiamo parlato prima, appunto, di comunicazione asincrona, no? Che YouTube è una forma di comunicazione asincrona. Noi, inviando i messaggi vocali, abbiamo, in un certo senso, riesumato il monologo, perché l'avevamo abbandonato. Poche persone lasciavano messaggi in segreteria, ma un messaggio vocale è come un messaggio in segreteria, ma uno ne lascia magari decine al giorno. E quindi deve riuscire a chiudere le informazioni, a fare questo pacchetto di informazioni, senza che l'altro risponda subito. E non so voi, ma io odio le persone che si allungano e fanno questi messaggi da tre minuti, li guardano fatto, oh no, tre minuti, devo sentire questo che ha da dire. E quindi queste sono, diciamo, le cose che a me hanno colpito di più. Insieme a un ultimo, un ultimo fenomeno un pochino più legato invece all'email, al linguaggio dell'email, soprattutto in ambiente corporeal, quindi magari grandi aziende, o anche con un registro un po' più formale. Diciamo, ci sono dei, delle espressioni inglesi che permeano, che passano all'italiano e che vengono però adattate alla lingua italiana, anche se noi in italiano già abbiamo un corrispondente, ma non è il semplice meeting, quello che vogliamo. Secondo me sono cose ancora più più surrettizie, più nascoste. Per esempio? È una mia amica che lavora appunto in una grossa azienda, mi ha detto che un suo collega gli ha mandato una mail dicendo, ah, cara Paola, ti vorrei fare una suggestione. Una suggestione. Un suggerimento, però lui aveva subito l'influenza di suggestion e quindi l'ha traslato in italiano. Strano come c'è questo shift, c'è questo spostamento di significato su una parola che in italiano, in realtà ce n'è uno, è diverso rispetto a quello dell'inglese. Diciamo, queste sono le tre cose che mi sono venute in mente. Poi Lorenzo ne sa molto di più in realtà sul lessico utilizzato ad esempio in quasi un tecnoletto, quasi un linguaggio minoritario, ad esempio dei giocatori, dei cosiddetti gamer e di come queste parole entrano poi in italiano. Lorenzo. Sì, beh, eccoci. Beh, in realtà, sì, il fenomeno è simile, ma quasi opposto, tra virgolette, mentre appunto, come diceva Valentino, nel linguaggio un po' più formale, in cui si tende comunque a dover dare un'impronta di italiano, quindi si può passare da suggestion a suggestione, nel linguaggio più informale, più immediato di quello che può essere una chat, un reddit, un subreddit o direttamente anche la messaggistica istantanea in alcuni ambienti, un po' per facilità di comprensione si utilizza semplicemente un prestito diretto, quindi si prende una parola dall'inglese, quindi dal lessico tecnico di un determinato gioco, argomento, anche banalmente, banalmente, anche in linguaggio, diciamo, di sviluppo, in determinati ambienti si utilizza semplicemente la parola trasportata in italiano, hackerare, plastare, insomma, poi ce ne sono di varie, di varie ed eventuali, e semplicemente perché una volta acquisito il significato della parola nella lingua originale, quindi in questo caso nell'inglese, si utilizza come verbo istantaneo o come, diciamo, soggetto di una frase, insomma, e viene semplicemente utilizzata in italiano con pronuncia completamente annullata e quant'altro. Ci puoi fare qualche esempio? Spiegandoci anche il significato per chi non lo sa. Quello che dicevo prima, ad esempio, hackerare appunto l'hacking è una procedura complessa di sorpassare le difese di un sistema informatico o di comunque andare a danneggiare o a combattere chi danneggia, quindi diciamo hacking e contro hacking, un po' so. E viene utilizzato se poi appunto mi hanno hackerato l'account oppure mi hanno scammato l'account appunto lo scam. Se posso dire una cosa, la cosa interessante di questi prestiti tali e quali dall'inglese è che spesso poi generano nuove parole in italiano, per esempio, noi da hacker, hackerare, abbiamo formato il verbo hackerare ma anche il sostantivo hackeraggio aggiungendo questo agio che è un un suffisso italiano, quindi un inglese non capirebbe la parola hackeraggio, credo. Esatto, esatto, avrebbe comunque delle notevoli difficoltà, magari capisce, può capire diciamo il contesto ma non il significato poi finale e questa qui è una cosa appunto che succede abbastanza spesso e ripeto, poi in ambiente più videoludico diciamo, c'è proprio il tutto quanto un vocabolario di termini dai più semplici la kill mi hanno killato così come se ne sono veramente veramente tanti. Mi hanno killato vuol dire immagino mi hanno ucciso nel gioco. Esatto, esatto, partendo dal termine kill il I've been killed diventa sono stato killato proprio traduzione letterale ma viene sostituito ucciso con killato perché appunto da questo perché essendo immersi in un contesto comunque in cui l'inglese viene utilizzato come lingua principale si assorbe molto più rapidamente questo tipo di di linguaggio anche banalmente il mining adesso ci sono i miner che in inglese effettivamente sono i miner di bitcoin o criptovalute che siano e adesso viene utilizzato in italiano con un concetto simile a quello che aveva precedentemente il minatore quindi chi fa in miniera a cercare materiali preziosi o meno e adesso semplicemente ci sta chi ha delle farm in italiano vengono utilizzate adesso è un termine che si capisce si comincia a conoscere all'interno di quest'ambiente appunto molto interessante Irene ti possiamo fare una domanda vediamo come termine videoludico se riesci a indovinare il significato possiamo dire ad esempio Lorenzo ha carriato il team carriato mi viene da dire che verrà dall'inglese to carry quindi portare quindi ha portato il team però non capisco cosa voglia dire Lorenzo lo sa spiegare meglio esatto il significato è esattamente quello viene proprio appunto da carry quindi da portare chi sta carriando un team o una partita fondamentalmente è quello che risulta essere il giocatore diciamo o la persona diciamo più di spicco della situazione il leader per dirlo esatto 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 molto interessante carriare non conoscevo è un termine che viene molto utilizzato e ad esempio appunto con un'analisi partendo dall'inglese si può intuire il significato ma non sapendone poi il contesto è anche più difficile da interpretare magari sì volevo solo aggiungere a proposito di quello che aveva detto Valentino prima che anch'io pensando a cosa dire in questo episodio avevo pensato all'analogia la comparazione tra i messaggi istantanei e il teatro tu hai detto prima che i messaggi vocali sembrano i monologhi teatrali ma ho pensato che anche proprio gli scambi di messaggi ricordano un po' la commedia perché anche lì i bravi commediografi del passato imitano il linguaggio parlato e poi dicevi anche della lo stravolgimento della punteggiatura e in effetti la punteggiatura e anche le pause del linguaggio parlato non sono più rappresentate da punti virgole punti e virgola ma come dicevi tu dal fatto di mandare messaggi separati quelli riproducono un po' le pause del parlato e a proposito di questo il problema è che non sempre è chiaro a chi legge il tono di voce perché quando parliamo abbiamo un tono di voce che può far apparire completamente diversa una parola detta con un tono rilassato urlato indispettito invece questo nel linguaggio scritto manca e tutto sta all'interpretazione di chi legge e se chi legge per vari motivi interpreta qualcosa in un modo distorto poi sorgono i problemi ed è quello che si vede spesso sui social network quando iniziano liti magari semplicemente perché qualcuno ha interpretato male un messaggio o perché come dicevi tu qualcuno si è dimenticato il caps lock e quindi ha scritto tutto in stampatello maiuscolo anche se non voleva e gli altri si sono arrabbiati quindi bisogna fare attenzione esattamente siamo completamente d'accordo su questo esatto ma infatti per caricare di significato un po' per quanto limitato possa essere diciamo un messaggio vengono spesso utilizzate tra virgolette per fortuna perché poi c'è anche chi ne abusa le emoticon quelle danno effettivamente un significato diretto tramite appunto un'immagine che puoi interpretare più facilmente che non diciamo l'intonazione da un testo scritto insomma esatto quindi le emoticon che in italiano chiamiamo anche faccine sostitui e anche le gif tutte quelle immagini sostituiscono in qualche modo l'espressione facciale il tono di voce tutto quel linguaggio paraverbale cioè tutto ciò che non è il parlato che non riusciamo a far vedere nello scritto sì molto interessante anche questo e mi veniva da pensare che c'è anche diciamo un galateo o un'etichetta della scrittura online cioè in base a come una persona scrive possiamo sapere molto del suo carattere della sua provenienza sociale di quanto ha studiato come del resto ne hai parlato quindi possiamo fare qualche esempio su questo cioè anche per la vostra esperienza un certo tipo di mail che vi fanno pensare qualcosa cosa ne pensate sì esatto a me viene più in mente con i messaggi appunto come su whatsapp più che estrazione sociale in realtà l'età appare più evidente quindi c'è quella parola dall'inglese che è diventata diciamo è stata utilizzata in quest'ultimo anno che è boomer no? che sarebbero quelle persone i baby boomers quelle persone nate tra gli anni 40 e 50 che adesso hanno tra i nostri genitori insomma più o meno 70 anni e diciamo ci sono alcuni tratti distintivi cioè l'eccessivo l'uso e abuso di faccine spesso la stessa ripetuta reiterata un numero eccessivo di volte che viola in un certo senso non questo galateo ma che io quando lo vedo so che quella persona ha più di 50 anni proprio ne sono sicuro assolutamente e questo è sicuramente un tratto che evidenzia l'età più che appunto l'estrazione sociale quello è più difficile ovviamente è vero io per estrazione sociale pensavo più all'email dove ovviamente lì si vede quanto uno sa usare la punteggiatura le maiuscole e penso che l'email sia ancora un luogo un po' più sorvegliato della messaggistica istantanea quindi si presuppone che una persona in una mail metta le maiuscole al punto giusto usi i punti e se non lo fa ci viene da pensare che sia una persona che non si cura molto del modo in cui scrive mentre su whatsapp sarebbe una cosa più accettata un'email è comunque una via di mezzo tra un linguaggio informale e formale è vero anche se sta un po' cambiando io ho un collega che insegna all'università e riceve molte mail dagli studenti e dice che la mail secondo la sua è anche lui un linguista quindi diciamo le scandaglia ogni volta dice che la mail praticamente ha una cornice che è l'apertura punto salve professore buongiorno professore e la chiusura che sono in realtà formali fisse ma al centro magari gli danno del tu quindi c'è questa cornice loro sanno che devono dare salve professore buongiorno professore e alla fine distinti saluti e per mezzo del tu quindi c'è questo questo tono ibrido che non si sa se è di rispetto o non di rispetto è interessante come si sta codificando come sta diventando una vera e propria cornice anche la la mail è vero sì anche anche perché comunque le mail vengono viste più come le vecchie lettere quindi diciamo un qualcosa di non modificabile nel momento in cui premi invia è andata quindi è un qualcosa che rimane sono vestite di una formalità che la messaggistica istantanea non ha per esempio su whatsapp appunto come dicevamo e dicevate anche prima è proprio una sorta di surrogato di un discorso orale quindi è più sono perdonabili molte molte cose tra maiuscole punteggiatura errori di ortografia è più facile commetterne e dire vabbè ok vado invio comunque piuttosto che fare lo stesso discorso in una mail in una mail appunto c'è questa sorta di come dire di formalità che la riveste che si sta evidentemente trasformando in una sorta di proforma una cornice intro e outro quindi ingresso e uscita della mail in maniera formale e poi il resto viene come viene magari non so è vero e hai anche fatto notare una cosa interessante di cui non avevamo parlato per i messaggi istantanei le chat oggi molto spesso c'è la possibilità di modificare o annullare l'invio di un messaggio che è una cosa che ovviamente nel parlato non possiamo fare possiamo correggerci ma non possiamo sperare che la persona si sia dimenticata di quello che abbiamo detto e questo da un lato appunto allontana lo scritto dal parlato no non mi ricordo dall'altro lato cosa volevo dire ho iniziato la frase ma poi però volevo dire che è un po' una contraddizione quasi perché è un linguaggio molto immediato però si può in un certo modo modificare possiamo cambiare strada a meno che l'altra persona non abbia già letto il messaggio ovviamente esatto a me poi viene in mente anche diciamo parlando dello sviluppo del linguaggio anche su internet degli ultimi anni ma anche in realtà ad esempio gli sms dove uno pagava per numero di parole quindi era un pullulare sono aumentate tantissimo le abbreviazioni gli acronimi cosa che adesso invece poiché la comunicazione passa per canali gratuiti non avviene più non ha più senso accorciare una parola è vero infatti un segno che qualcuno è un boomer è usare comunque le abbreviazioni per esempio mia mamma usa le abbreviazioni grz per grazie quando in realtà non c'è più nessun bisogno perché mandare un messaggio lungo corto costa questa cosa mentre un ambiente in cui sono rimaste e vengono utilizzate molto sono appunto le chat istantanee quelle diciamo a rapido scorrimento soprattutto penso all'inglese ad esempio che thank you viene abbreviato in ty perché se ti devo comunicare in qualcosa nell'immediatezza appunto non lasciandoti un messaggio che puoi leggere in qualsiasi momento lì continuano ad essere utilizzati e sono molto utili proprio perché ti accorciano il tempo di digitazione appunto del messaggio nei giochi intendi anche sì 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 nei giochi non so anche negli stream nelle quei canali in cui ci sono delle chat veloci lì sono sono molto utili e a volte sostituiti da emoticon da immagini ma spesso e volentieri vengono vengono utilizzate e a questo proposito ricordiamo che le abbreviazioni non sono una cosa recente non sono una cosa nuova infatti già in epoca romana erano usate per esempio sulla pietra ma anche poi sui primi libri sui codici sui volumi e lì erano usate proprio per assenza di spazio un po' anche lì perché comunque costava molto la carta e un po' per i limiti fisici dell'oggetto per esempio su una pietra quindi molti parlano delle abbreviazioni come se fossero una cosa nuova ma in realtà dobbiamo ricordare che sono molto antiche e comunque erano usate per ragioni molto simili immagino anche che abbreviare delle cose scritte su pietra avesse anche diciamo una funzione di minor fatica ecco la lingua funziona sempre per il principio dell'economia che può essere per lo scritto o per l'orale se lo puoi dire in meno parole e se ti costa meno fatica fa lo perché c'è tutto di guadagnato bellissima questa corrispondenza tra appunto sms e iscrizioni sul marmo marmo non lo so oddio travertino e l'ultima cosa che mi viene da dire è pensando a twitter lì le abbreviazioni o comunque la brevità è propria del modo di comunicazione proprio del social di twitter e lì diventa proprio un'arte scrivere brevemente perché anche scrivere esprimere un concetto con poche parole non è facile ci vuole una bella comprensione di quello che si vuole dire per restringerlo in poche parole quindi diciamo che probabilmente il tweet potrebbe essere una nuova forma letteraria eh sì assolutamente anche se hanno dall'anno scorso hanno raddoppiato ho sentito il numero di caratteri disponibili che poi sarebbe anche interessante fare un confronto con diverse lingue che magari l'italiano di solito ha molte parole lunghe mentre altre lingue hanno parole più corte quindi possono esprimere magari gli stessi concetti in un numero proprio di caratteri minori è vero questo sarebbe interessante vedere qual è la la potenza dell'informazione per stringa di caratteri è vero per quel poco che so del finlandese per esempio penso che potrebbe essere una lingua molto economica di caratteri perché tende ad attaccare i pronomi le declinazioni tante cose alla parola stessa quindi con una parola un po' come il tedesco con una parola ti dice tante cose lo stesso è valido anche per il cinese dove un carattere quindi quello che lo spazio che è occupato da una lettera in realtà è un è un morfema quindi esprime un significato chiuso come se acqua fosse solo un segno quindi sono avvantaggiati i cinesi sull'uso di twitter infatti i loro libri di solito sono più corti stesso libro Harry Potter il signore degli anelli quello che vogliamo italiano così il cinese è la metà se non di meno bellissimo allora vi faccio l'ultima domanda visto che sono sicura che qualcuno degli ascoltatori si è fatto questa domanda cioè che cosa pensiamo cosa pensate voi di questa evoluzione della lingua è positiva è negativa è normale c'è un certo dibattito anche in Italia c'è chi dice no non si possono usare gli anglicismi la lingua deve rimanere pura è una corruzione della lingua voi cosa ne pensate beh in realtà diciamo la nostra lingua stessa proprio l'italiano è nato da un'evoluzione di altre lingue precedenti quindi diciamo per quanto secondo il mio punto di vista l'introduzione di nuovi termini l'introduzione di appunto anche prestiti se possono agevolare lo scambio di informazioni più che più che benvenuti anzi appunto riuscendo a dare magari delle sfumature che nella nostra lingua non ci sono o magari anche semplicemente appunto una brevità di espressione di concetto che appunto in altre lingue in primis l'inglese magari riescono ad assimilare in un'unica parola un concetto che per noi richiederebbe due, tre, quattro parole per essere espresso benvenga l'introduzione di nuovi termini e quant'altro dall'altra parte effettivamente si vede molto anche l'utilizzo di anglicismi o comunque anche francesismi e quant'altro che sono anche superflui e come diciamo prima appunto killare è una cosa completamente superflua però è lì per la comprensione immediata nell'ambiente del gaming o quant'altro all'esterno risulta un po' superflua non ci vedo nulla di male suona sempre un po' strano perché appunto è un qualcosa di decontestualizzato però non ci vedo io personalmente non ci vedo nulla di male anzi Valentino io porto avanti una campagna contro il purismo della lingua da quando ho memoria le lingue sono diciamo delle degli insiemi permeabili diciamo le parole passano dall'una ritornano all'altra non ha senso costruire dei confini diciamo è un po' una pretesa secondo me ingiustificata quella di definire alcune parole vere parole italiane e altre parole come dei prestiti che vengono da fuori anche perché non è detto che quella parola davvero italiana o che quella parola davvero inglese magari appunto ha fatto un giro inaspettato e poi ci sono ad esempio delle parole dei neologismi bellissimi non so poi se questo è un pochino aforistico se l'origine è vera ma dei primi diciamo metà metà novecento degli emigrati italiani in Germania che videro le finestre quelle che si potevano aprire sia in orizzontale che un pochino in verticale che in italiano si chiamano la finestra vasisdas che in realtà è semplicemente vasisdas del che cos'è questo del tedesco che noi abbiamo preso ah vasisdas si chiamerà così quindi noi abbiamo preso una una domanda la domanda generica di che cos'è questo del tedesco l'abbiamo portata in italiano l'abbiamo appiccicata e ne abbiamo fatto una parola italiana è una parola italiana è una parola tedesca non lo so però interessante bellissimo non sapevo l'origine di questa parola bello bello si dice anche che kangaroo kangaroo abbia la stessa origine non so se era appunto l'ammiraglio cook uno dei primi inglesi che era che era sceso che da in australia indica il kangaroo e chiede a un aborigeno che cos'è questo e lui risponde kangaroo che significa non ho capito letteralmente non ho capito cosa mi stai dicendo è vero sì questa storia l'avevo letta sì sono d'accordo con voi ogni lingua è sempre in evoluzione quindi è inutile chiudere le porte anche perché è impossibile ed è inutile anche essere eccessivamente puristi l'unica attenzione che secondo me va un po' mantenuta è che se la lingua si semplifica eccessivamente secondo me si perde anche un po' la capacità di pensare in modo complesso cioè se non abbiamo le parole per dirlo significa che non riusciamo neanche a pensare quei concetti per esempio penso al congiuntivo e al condizionale che in italiano sono sempre meno usati però sono dei modi che ci aiutano ad esprimere un certo concetto astratto che non riusciremmo più ad esprimere quindi va bene accettare che la lingua sta cambiando però è anche utile che nelle scuole perlomeno si continuino a insegnare magari in un altro modo più al passo con i tempi però bisognerebbe quantomeno sapere com'è la lingua diciamo allo standard più alto dell'epoca storica in cui viviamo e poi in alcuni contesti va benissimo usare parole inglesi e tutto quanto anche per evitare appunto di usare un linguaggio eccessivamente informale in un contesto formale questo creerebbe dei problemi questo sicuramente ma infatti quello che dicevo prima è principalmente pensato sul diciamo sull'importazione di nuovi termini o di nuovi modi di dire o quant'altro perché ovviamente appunto il discorso anche per non parlare del ormai defunto passato remoto che sono comunque delle forme dei termini anche che vengono utilizzati con un determinato scopo che perderli arrecherebbe danno ciò non toglie che aggiungere delle cose appunto finché non si perde nulla aggiungere delle cose da soltanto altre armi appunto per farsi capire capire e per comprendere meglio quindi aggiungere buono perde meno buono come dire sono assolutamente d'accordo anche io mi trovo d'accordo in pieno sentite vi ringrazio moltissimo per questa conversazione forse è stata un po' più avanzata per gli ascoltatori di quello a cui sono abituati ma può essere l'occasione per mettersi un po' alla prova e potete sempre riascoltare l'episodio a velocità più più bassa grazie mille Valentino e Lorenzo di essere stati qui davvero è stata una bella chiacchierata e andate tutti a seguire la pagina di Laud Italian Learning che è bellissima e presto magari sentirete una mia intervista sui loro canali grazie ancora grazie a te dell'ospitalità e grazie a tutti gli ascoltatori insomma chi ci sta guardando non io perché non ho la webcam e beh sì sicuramente poi ci vedremo ci vedremo anche nel nostro canale questo è poco ma sicuro grazie grazie mille benissimo grazie